La manifestazione a difesa della salute, soprattutto contro la commercializzazione della sanità, come vediamo anche nelle nostre vallate, i tagli sul presidio ospedaliere, eccetera, eccetera. Quindi questa manifestazione con corteo deve essere molto partecipata ai cittadini aretini, di tutte le vallate, perché il tema della salute è un tema che riguarda veramente tutti. E' una chiamata alle armi, quella del Comitato Salute Casentinesi, che per sabato 7 aprile organizza una manifestazione pubblica che arriverà fino alla Prefettura. Tema principale difendere la sanità, ma ultimamente il Comitato si sta occupando del caso Agorà, cooperativa sociale che ha visto il licenziamento dei dipendenti di un'intera struttura per disabili nel comune di Castiglione Fiorentino per il mancato pagamento degli stipendi. La Cassa di Riposo di Stia, che è stata la prima struttura per la quale ci siamo occupati, non percepiscono gli stipendi da dicembre. Podere Modello, che è un'altra struttura che ha visto il licenziamento di 10 dipendenti, non vedono gli stipendi da novembre. E inoltre ci stanno contattando altri dipendenti di altre strutture alle quali stiamo offrendo assistenza legale gratuita dal Livorno e da altre strutture anche di Arezzo, che non vedono percepirsi i propri stipendi da agosto, da ottobre. Quindi questa situazione è gravissima e siamo qui per richiedere la massima partecipazione di tutta la popolazione aretina, perché sarà importante dimostrare il nostro attaccamento a dei diritti fondamentali, nonché diritti costituzionali, come il diritto al lavoro, che in questo caso ricade anche sul diritto alle cure e alla salute, perché una mala gestione in certe strutture socio-sanitarie ricade inevitabilmente anche sulla salute degli ospiti. Grazie.